Ciao Roberta e un saluto a tutti i lettori di Teste Fiorite. Accolgo così con grande piacere la sollecitazione che mi hai fatto e spieghiamo anche il perché. Io ti sto mandando questo messaggio dallo studio di Cube Radio da dove registriamo tutte le settimane a Vamposto 31 una rubrica sull'immagine disegnata a cui anche tu sei stata nostra ospite e ti ringraziamo ancora per questa cosa. Il perché di questo video? Perché recentemente su Teste Fiorite è apparsa un bell'articolo di Benedetta Morandini su Lady Oscar che è un manga che io amo molto e quindi così mi è venuta voglia di ampliare ulteriormente il discorso su questo contenuto perché secondo me è estremamente sintomatico sui manga in generale cioè sulla produzione del fumetto giapponese in generale. Allora perché questo? Per tanti motivi perché secondo me Berusai Unobara, questo è il titolo originale dell'opera in giapponese porta in sé un sacco di questioni che hanno riguardato questo contenuto nello specifico ma che poi si può allargare a tantissimi altri contenuti del fumetto giapponese che sono arrivati fino a noi. Allora, una prima considerazione secondo me è importante è cercare di collocare un po' quest'opera perché l'uscita è tra il 1972, il manga originale è tra il 1972 e il 1973 pochi sanno che i fumetti giapponesi escono a puntate cioè i manga noi li conosciamo nella traduzione nei formati in cui li troviamo normalmente nelle librerie o nelle fumetterie ma in origine escono così. Questo è un manga. Come vedete è un librone da circa, dipende, 700, 800, 900 pagine stampato su una carta poverissima che è riciclata di veramente bassissima qualità per contenere i costi all'interno del quale ci sono molti fumetti, molto contenuti ovviamente si legge al contrario perché in Giappone leggono da destra a sinistra e quindi all'interno di contenuti come questi che sono di solito divisi per argomento ci sono riviste come queste di fumetti dedicati allo sport all'avventura, ai sentimenti e cose di questo genere si trovano tante storie di tanti autori diversi quindi cosa succede? Che gli autori si confrontano tra di loro e solitamente vengono continuate le storie viene dato spazio alle storie che dimostrano di avere maggiore presa sul pubblico il fatto che escono puntate che siano prodotte settimana dopo settimana fa sì che spesso gli autori partano con un'idea e poi magari la cambino strada facendo ed è il caso di Lady Oscar già il titolo in qualche maniera è sintomatico perché Verusai no Barà significa la rosa di Versailles ma può anche essere interpretato come le rose di Versailles e in effetti se si legge il manga la sensazione che si ha all'inizio è che sia molto più centrato sulla figura di Maria Antonietta che su quella di Lady Oscar questo perché dichiaratamente Ryukyeda si è ispirata a questa biografia di Stefan Zweig che si intitola Maria Antonietta una vita involontariamente eroica ed è da lì che è partita per fare tutto il suo lavoro poi come accade spesso una figura che doveva essere meno importante ha avuto invece una grandissima presa sul pubblico ed è una grande presa sul pubblico che poi ha scatenato tutta una serie di altri dibattiti Verusai no Barà è uno shoujo manga cioè è un manga per ragazze sentimentale diciamo così c'è un bel approfondimento nell'articolo che parla proprio di shoujo manga però introduce tutta una serie di tematiche molto interessanti e molto anche dense ad esempio sotto traccia c'è in maniera molto forte la questione dell'identità di genere Oscar François Desjardins il nome del personaggio è una bambina che nasce in una famiglia da un genitore che vuole un maschio al quale quindi viene imposta un'identità sessuale diversa dalla sua che inizialmente accetta ma poi vedremo anche rinnega generando tutta una serie di fraintendimenti di patimenti sentimentali e quant'altro e già qui andiamo incontro a un elemento interessante del fumetto giapponese quello che molte volte dimentichiamo del fumetto giapponese è che nasce in un contesto culturale diverso dal nostro non c'è un retroterra religioso cattolico come quello dei nostri paesi e quindi c'è una tolleranza diversa un'opertura diversa verso il trattamento di alcune tematiche che per noi sarebbe difficile accettare primo secondo i fumetti giapponesi non sono e non nascono per essere fumetti per bambini cioè ci sono i fumetti per bambini ma ci sono i fumetti per gli adolescenti per gli adulti per tutti è un genere estremamente trasversale mentre noi abbiamo questa tendenza tipica occidentale di considerare i fumetti e in particolare le trasposizioni in animazione dei fumetti come prodotti per bambini questo quando Lady Oscar è arrivata da noi sotto forma di cartone animato ma anche come sotto forma di fumetto lo vedremo dopo ha generato inevitabilmente una serie di imbarazzi molto molto forti perché perché all'interno della serie non solo c'è questa questo elemento di sottotraccia ma è un elemento che si esplicita anche certe volte in maniera molto decisa e quindi nel tentativo di edulcorare questo contenuto la versione che abbiamo visto è stata in parte censurata e in parte traviata nella traduzione faccio un esempio banale c'è un certo momento Oscar incontra una ragazza che poi diventerà una specie di sua protégée che le si offre per denaro cioè quindi si offre di prostituirsi a lei e lei le ride in faccia perché non ha capito che lei è una donna nella versione del cartone animato che abbiamo visto noi ovviamente questa cosa è stata completamente cambiata ed è assolutamente incomprensibile mentre invece sempre nella serie ci sono altri momenti molto drammatici come ad esempio l'uccisione di un bambino da parte di un nobile di un bambino del popolo che viene ucciso tra l'altro in una maniera orribile perché viene colpito a morte gli viene sparato alle spalle ecco questa cosa invece assolutamente non è stata tolta e l'abbiamo vista in alcuni casi è capitato per esempio che persino le puntate si accorciassero perché a furia di tagli i 25 minuti canonici sono diventati sono diventati meno il problema si è posto con il cartone animato questa contraddizione questo fraintendimento che nell'altro è un fraintendimento di carattere culturale stiamo parlando noi abbiamo visto queste cose già negli anni 80 quindi una decina d'anni dopo quando Mondadori decise di sull'onda del successo della serie animata di pubblicare in Italia per la prima volta il fumetto cioè il manga di Lady Oscar e di allegarlo a una testata che all'epoca vendeva tantissimo che era Candy 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 era una testata per ragazze in cui era stato pubblicato il manga della serie televisiva siccome andava bene ma a un certo punto il manga di Candy Candy finisce Mondadori nel tentativo di non ovviamente con l'obiettivo di non concludere la pubblicazione cominciò a comprare altri titoli a cercare di accappararsi altri titoli e addirittura di continuare il manga facendolo disegnare da autori italiani quando prese Lady Oscar e della prima apparizione come fumetto il problema ha emerso in maniera ancora più forte perché alcune delle tematiche che nel cartone animato sono già critiche difficili nel fumetto diventavano praticamente impossibili e di conseguenza ci sono scene completamente tagliate tavole mancanti ma cosa ancora più incredibile non c'è il finale perché a un certo punto nel fumetto la storia tra Andrea e Oscar si protende abbastanza a lungo non è come nel fumetto che è concentrata nelle ultime puntate e di conseguenza di fronte a questa situazione difficilmente gestibile quando i due si dichiarano il fumetto venne chiuso abbiamo dovuto aspettare un bel po' di anni per vedere la versione diciamo così italiana questa per esempio fu una delle prime pubblicazioni italiane finalmente con l'Anna Mangairo della Granata Press che ricordiamo è la casa editrice che storicamente ha sdoganato il fumetto italiano in Italia facendolo come si deve quindi quello che è interessante secondo me è che ci tenevo ad aggiungere a quanto già detto benissimo nell'articolo nel pezzo di Benedetta è che secondo me l'opera della dell'Aikeda non so quanto consapevolmente da parte dell'autrice è riuscita a toccare talmente tante tematiche talmente tante questioni da diventare davvero quasi un fenomeno di costume non dimenticate due cose per concludere una che l'apparizione di Oscar come serie animata aggiunge da noi in occidente in Italia in Europa in particolare in un periodo in cui per esempio il mondo musicale è attraversato da questo fenomeno del del New Romantic quindi della riproposizione di tutti quegli stilemi tipici del periodo della rivoluzione francese da un lato e quindi era molto moderno molto attuale dall'altra parte l'Eikeda fa un'altra cosa straordinaria cioè va a prendersi un così un'icona un topos narrativo tipico del fumetto giapponese che è Ribon no Kishi cioè la principessa Zaffiro di Osamu Tezuka che è considerato il primo fumetto così di sentimenti di storie d'amore del 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 fumetto giapponese di grande di largo successo e lo reinterprete anche in quel caso abbiamo una donna che si deve travestire da maschio per portare avanti in quel caso lei lo fa volontariamente diciamo non è imposto però è sempre una combattente è sempre una che deve mascherarsi da uomo per portare a termine una missione e quindi lei riprende anche questo topos narrativo ovviamente ricontestualizzandolo con una grande cura sul dettaglio una cosa che emerge molto forte che l'Aikeda fece un grande lavoro sicuramente di analisi e certo non a livello storico non c'è non è un'opera filologica però è sicuramente un'opera rigorosa da questo punto di vista per quello che era l'impostazione che l'Aikeda ci diede quindi ecco la mia la mia così il mio invito a tutti i lettori a quelli che seguono teste fiorite è ad approfondire queste cose perché sono molto interessanti e perché ahimè quel fraintendimento che vi dicevo cioè di considerare il fumetto giapponese semplicemente come un fumetto per ragazzi solo perché graficamente ci sembra così è un errore clamoroso il fumetto giapponese è un genere letterario importantissimo che ha uno spessore enorme di cui noi abbiamo percepito veramente pochissimo anche se ci sembra tanto e che affonda le proprie basi su un contesto culturale così lontano dal nostro che talvolta è molto difficile per noi riuscire a interpretarlo al meglio con questo io saluto te e Roberta tutti i lettori vi ringrazio ancora dell'ospitalità e ciao da Cube Radio e da VanPosto31 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti